PAC, Palermo a Roma, bar, pasticceria, Dagnino, le decorazioni di Amorelli, gli arredi intatti, come avrebbero potuto essere nel 1959, motivi picassiani. Grazie a tutti. Monte Pellegrino, così com'era, ho già pagato io, non ho capito, che pensi che sono un pagliaccio. Noi siciliani non facciamo schifo, ma lei è siciliana, di dov'è? Palermo. Come me? Quale zona? Di Castel Daccia. E allora la dica tutta, la casetta bianca. La casetta bianca, la casetta bianca. La rotonda, esatto, sono io. Fulvio, ti saluto, grazie di tutto. Ciao Flavia. E la presentazione di tutto, dell'Octurn. Questo signore fa, interpreta Bobo Craxi nel film di Amelio. Esatto. Aspettatemi che sto finendo gli anelletti al forno. Oh, ma ti fa tutti questi filmati. Non credo adesso. Una decorazione di Amorelli. A colloquio. A colloquio. Ci siamo conosciuti stasera. E come mai vi siete conosciuti? No, perché ci eravamo scritti, perché io, perché lui mi ha scritto, io ho detto che è stato molto bravo a interpretare me. Ma tu l'hai visto? Io l'ho visto stasera. Sai, non è semplice, lui, perché i grandi personaggi non sono facili da interpretare. No, no, no. Scusate, ma io adesso devo... La Galleria Danilo, Palermo a Roma. Salutate. Salutate. Palermo a Roma.